In questa presentazione ti parlo dei principali protagonisti della moda negli anni settanta. Negli Stati Uniti i principali protagonisti della moda negli anni settanta sono Ralph Lauren Calvin Klein, Norma Kamali e lo stilista di origini serbe Zoran. In Francia si affermano Jean Paul Gaultier e Agnes. In Inghilterra, oltre a Vivienne Westwood, si affermano Ossie Clark, Jean Muir e Zandra Rolf, mentre in Italia si affermeranno stilisti come Sarli Ferré e Giorgio Armani, Albini, Versace e Valentino. Ralph Lauren nasce a New York, nel Bronx, nel 1939 da una famiglia di immigrati ebrei della Bielorussia. Nel 1967 crea la sua etichetta, Ralph Lauren Corporation, ispirandosi a uno sport che incarna un mondo di eleganza discreta e stile classico, il polo. Nella sua prima collezione esordisce con una linea di cravate che riscuotono un successo immediato, nonostante fossero state create in controcorrente. Lauren infatti le disegna larghe e fatte a mano, usando dei materiali insoliti, ricchi e colori sgargianti. Nel 1971 crea anche la prima linea donna, con una collezione di camice di taglio maschile, reinventando il look maschile stesso classico per lo stile femminile. Con la linea donna nasce anche il logo del giocatore di polo, che oggi è ovunque e contraddistingue lo stile Ralph Lauren. L'anno successivo amplia la sua presenza, cominciando ad occuparsi anche di accessori e calzature. L'apolo è nata come un indumento maschile, poi diventata anche femminile e viene oramai utilizzata come capo adatto, al di là dello sport, per un appigliamento casual. L'americano John Brooks, trovandosi in Inghilterra per lavoro, notò le divise da gioco del polo, e in particolare del collo, e lo applicò alle sue camicie, chiamate button-down. Il brand Brook Brothers lanciò così, nel 1896, un modello di camicia molto simile all'attuale maglietta polo, ma a maniche lunghe. L'invenzione dell'appolo, così come la conosciamo oggi, è attribuita però a un tennista, Jean-René Lacoste, che nel 1926 indossò una maglietta simile all'appolo di Brook Brothers, ma con le maniche corte. Ralph Lauren fa dell'appolo uno dei suoi capi più definiti ed emblematici. In molti lo considerano il Giorgio Armani americano. Lo stile che prevale è semplice. Si adatta alla gente comune e alle sue esigenze, rimandando l'audacia a tempi più propizi. Sommando l'esigenza di essenzialità e praticità dei tempi agli influssi hollywoodiani, giungiamo quindi allo stile androgino che caratterizza la donna di Ralph Lauren. C'è poi Kelvin Richard Lane. Nato nel 1942 da genitori ungheresi, ebrei, immigrati negli Stati Uniti per via della guerra, frequenta la prestigiosa New York Fashion Institute Technology. Tuttavia non conseguirà mai la laurea, ricevendo soltanto nel 2003 un dottorato ad honorem. Klein comincia il proprio praticantato nel 1962 e lavorerà per cinque anni realizzando vestiti per alcune boutique di New York. Nel 1968 fonderà la sua boutique. Klein è stato uno dei numerosi stilisti cresciuti nella comunità di immigrati del Bronx. Il suo stile è minimale, pulito e semplice, fatto di vestiti comodi, camicie bianche, colori tenui, oltre ai celebri jeans. L'intuizione di Kelvin Klein è aver messo insieme due ideali in apparente contrasto. Lo stile casual è lo stile provocatorio. Per creare la nuova idea di sensualità americana, senza orpelli, comoda, quasi utilitaristica, lontana dai capi tradizionalmente più provocanti come pizzi, latex e volant. Negli anni settanta inizia a prevalere una visione più pratica della moda. Designer come Giorgio Armani, Kelvin Klein, Ralph Lauren, Hope Hurston iniziano a creare uno stile lineare, discreto e sofisticato, abbandonando i codici estetici dei decenni precedenti. In quegli anni Klein dà vita alla famosa linea di jeans attillati che vengono pubblicizzati da una promettente e giovanissima Brooke Shields. Roy Hurston è noto per i suoi design minimalisti e lineari spesso realizzati in Kashmir che rappresentarono una novità nel mondo delle discoteche a metà degli anni settanta e contribuirono a ridefinire la moda statunitense del periodo. Lo stilista veniva spesso fotografato allo Studio 54 con gli amici Lisa Minelli, Bianca Jagger e Andy Warhol. C'è poi Norma Kamali. Nasce a New York nel 1945 e si diploma nel 1964 al Fashion Institute Technology. Apre nel 1968 la sua prima boutique in cui vende moda londinese e creazioni proprie. Alla fine degli anni settanta si afferma come una delle creatrici americane più fantasiose. Utilizza materiali poveri per eleganti abiti da sera e continuerà poi a dominare la scena della moda americana anche nel decennio successivo. Norma Kamali è nota soprattutto per aver ideato il capoto sleeping bag, cioè sacco a pelo, e anche per gli indumenti realizzati in seta per paracadute. C'è poi Zoran Ladikorbic, meglio noto semplicemente come Zoran. Lo stilista di origini serbe nato nel 1947 presenta la sua prima collezione a New York nel 1976. Il suo stile si contraddistingue per il carattere minimalista. Pochi materiali ma di alta qualità. Pochi modelli realizzati in taglia unica e in una gamma cromatica molto ristretta che va solitamente dall'avorio al nero. Nessuna ostentazione. Le sue creazioni sono vendute dai più grandi magazzini americani. La sua prima collezione offriva cinque modelli semplici. Di taglia unica, realizzati in crepè. Tutto quello che poteva permettersi in quel momento. Questa collezione è denominata Five Easy Peas. Ed era formata da tre camice, una gonna e un paio di pantaloni. Ha sottoscritto il moto meno e meglio e non ha mai guardato indietro. Nel panorama francese troviamo poi stilisti come Jean-Paul Gaultier. Nato nel 1952, presenta la sua prima collezione femminile nel 1977, dopo aver lavorato in vari atelier, tra cui quello di Pierre Cardin. Si distingue per il carattere eversivo delle sue creazioni che prendono di mira i cliché dei guardaroba dei due sessi in cui spesso sono presenti unioni di passato e presente. La sua rivisitazione del busto ottocentesco ha dominato la tournée di Madonna nel 1990. Si autodefinisce l'enfant terrible della moda ed è considerato il più diretto seguace di Vivian Westwood. C'è poi Agnès Troublé. Nasce nel 1941 e debutta nel mondo della moda come giornalista di Hell. Nel 1975 apre il suo primo negozio di abbigliamento femminile a Parigi e ottiene grande successo grazie allo stile Pochi pezzi pratici a prezzi accessibili che nel corso degli anni si è esteso anche alle sue creazioni di moda maschile e per bambino. Agnès ha venduto un mix di abiti da lavoro e capi basic che ha ridisegnato personalmente e colorato per creare una collezione eclettica da abbinare con i suoi disegni personali. Con il suo stile che si sviluppava ha iniziato a creare un abbigliamento puro con linee decise e forti. Nel 1979 ha creato il famoso cardigan snap dal taglio dritto e ampio lo scollo rotondo le maniche lunghe e larghe e linguette con bottoni a pressione regolabili sul retro. E a Parigi è attiva in questi anni anche Sonia Richel. Nata nel 1930 viene definita la regina della maglieria ed esordisce nel mondo della moda nel 1962 disegnando abiti femminili per la boutique del marito Sam Richel. Nel 1968 apre a Parigi il suo primo negozio e nel 1976 ha lanciato la Demo Day una filosofia della moda basata sull'emancipazione femminile dai diktat dei grandi stilisti. Secondo lei le donne dovevano scegliere da sole il proprio stile senza farsi condizionare dagli stilisti e per questo introdusse il concetto di Demo Day letteralmente fuori moda dicendo che la moda stessa era fuori moda e per dimostrarlo fece sfilare i suoi capi insieme a quelli di altri stilisti indossati come si portavano veramente nella vita di tutti i giorni. Si ispirò spesso alle correnti artistiche del surrealismo e del dadaismo. Inizialmente disegnava soprattutto abiti neri ma poi passò al colore e alle righe seguite da stampe e accostamenti originali di tessuti. Il materiale che utilizzò di più fu comunque la maglia. Fu la prima stilista a proporla nei vestiti da portare sulla pelle nuda. Diventò famosa alla fine degli anni 60 quando in Francia il femminismo era molto diffuso. La sua moda piaceva per gli abiti eccentrici ma comodi in grado di far sentire le donne al loro agio. Ho inventato tutto negli anni 70 diceva felpe senza spalle giacche trapuntate gli interni dei vestiti che sembravano esterni. Nel panorama londinese troviamo stilisti come Hossie Clark è lui lo stilista di punta della Swinning London. Dopo aver frequentato il Royal College Arts di Londra esordisce nel 1964 disegnando abiti per la boutique Quorum di Chelsea e diventando famoso per i suoi vestiti hippie e zingareschi. C'è poi Jane Muir La stilista inglese ha creato la propria etichetta Jane Han Jane nel 1961 e nel 1966 fonda poi l'azienda che ha riscosso il suo massimo successo durante gli anni 70. Si contraddistingue per il suo stile classico molto femminile comprodotti dalle lavorazioni di alto livello che garantiscono la cura dei dettagli e sono apprezzati per la capacità di unire eleganza e praticità. C'è poi Zandra Rhodes introdotta nel mondo della moda dalla madre costumista studia al Royal College Arts di Londra specializzandosi in stampa dei tessuti ma i suoi disegni sono considerati troppo d'avanguardia dai fabbricanti inglesi e quindi decide di produrseli da sé. Nel 1967 apre il suo primo negozio a Londra e nel 1969 presenta la sua prima collezione a New York. Soprannominata la principessa del punk ha vestito diverse celebrità tra cui Jackie Onassis Elizabeth Taylor Freddie Mercury Bianca Jagger Callie Minogue e Paris Hilton. Negli ultimi anni ha creato poi costumi di scena per spettacoli operistici e si è dedicata alla creazione del museo della moda e del tessile di Londra. In Italia uno dei protagonisti degli anni 70 fu certamente Walter Albini. Nato nel 1941 fu il primo a intuire che la risposta del cambiamento nei gusti e nei comportamenti di consumo di abbigliamento doveva andare nella direzione di una maggiore personalizzazione del prodotto industriale ottenuta attraverso la collaborazione fra stilismo e industria nella fase della progettazione del prodotto e del processo produttivo per realizzarlo. Albini aveva in mente una moda industriale così diversa dalle creazioni artigianali che sfilavano sulle passerelle fiorentine e dell'alta moda romana da necessitare di un nuovo trampolino di lancio. Artefice del primo esempio di collaborazione fra moda e industria spinta fino alla creazione di intere collezioni preceduta da un'intensa attività di studio e modifica delle macchine e dei tessuti in funzione dei progetti stilistici. All'inizio del decennio Walter Albini decise di presentare a Milano le proprie creazioni disegnate per cinque diverse case di moda e dunque Albini disegnò figurini per Basile Escargot Callaghan Mr. Fox Diamonds alla quale subentrò dopo un breve tempo Sportmax specializzate in differenti produzioni giacche maglieria jersey abiti e camice fra loro complementari il distacco dalle passerelle fiorentine fu condiviso anche da altre stiliste come Crizia ed altri stilisti come ad esempio Missoni e in queste collezioni lo stilista immagina e crea storie per le persone che le vestiranno nulla è lasciato al caso uno stesso tema una mood può essere declinato più volte e adattato altrettanto Albini ebbe il merito di essere riuscito a spostare la settimana della moda da Firenze a Milano nel 1975 ha lavorato per Crizia insieme a Karl Lagerfeld e collaborato con Etro per i tessuti Gianfranco Ferré nasce a Legnano in provincia di Milano nel 1944 dopo la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di architettura al Politecnico di Milano dove si laurea nel 1969 discutendo una tesi sulla metodologia dell'approccio alla composizione il casuale debutto nel mondo della moda avviene già in questo periodo Ferré infatti disegna bijoux e accessori che regala ad amiche e compagne di università le sue creazioni vengono così notate da Rosy Biffi vera scopritrice di talenti e titolare di una boutique d'avanguardia che ne parla alle manager di moda attive nel mercato milanese Ileana Pareto Spinola e Han-Sophie Benazzo conquistate dalla genialità di questi oggetti realizzati ancora in modo artigianale li ospitano nella loro showroom e li propongono ai buyer capitati quasi per caso sotto gli occhi di alcune redattrici di moda Anna Piaggi e Anna Riva per prime sono fotografati dalle riviste di settore nel 1971 e uno di questi accessori è sulla copertina del mensile Arianna e poi nelle pagine di Grazia di linea italiana e via dicendo Gianfranco Ferré fu definito l'architetto della moda ha collaborato con Walter Albini e poi nel 1978 fonda la sua Maison le sue creazioni si contraddistinguono per linee rigorose che sono sempre state la cifra della sua arte una visione della moda grandiosa e strutturata insieme semplice e rigorosa l'attenzione maniacale per il taglio la costruzione l'uso dei tessuti e la lavorazione la qualità e l'eleganza sono sempre stati un suo marchio di fabbrica la camicia bianca ha sempre scandito le sue collezioni rubata al guardaroba maschile e regalata alla donna come strumento di seduzione nel maggio 1989 inizia la straordinaria avventura nel nome di Christian Dior Gianfranco Ferré infatti è nominato direttore artistico della Maison più prestigiosa e carica di storia della Couture francese per le linee femminili di Haute Couture e Pret-à-Porter molto forte è il suo legame con l'India La mia avventura creativa ha scritto è iniziata proprio con la scoperta dell'Oriente Questa scoperta è stata l'inizio di un percorso di un'esperienza che le suggestioni e le abilità rubate a culture e tradizioni di altre parti del mondo hanno reso indubbiamente più ricca versatile e sfaccettata Credo di poter dire che il mio stile senza l'Oriente sarebbe stato profondamente diverso L'India mi ha trasmesso la passione per tutta quella gamma di colori che oscillano tra il giallo il rosso e il fucsia I toni solari e luminosi amati dalle donne indiane sono rimasti nella mia immaginazione per la carica di vitalità di passione e persino di opulenza che trasmettono quando sono associati al più povero e modesto dei tessuti Il Sari è stato per me una grande lezione di eleganza semplicità assoluta e mille sfumature di colore mille modi di drappeggiarlo ogni piega con un suo significato una sua accuratezza in un rapporto immediato e naturale con il corpo in movimento così diceva e scriveva Gianfranco Ferré arriviamo quindi a Fausto Sarli lo scultore dell'alta moda debutta nel 1956 giovanissimo a soli 29 anni con una sfilata nella sala bianca di Palazzo Pitti a Firenze nel 1961 disegna i costumi per Mina nella trasmissione Giardini d'Inverno e si conferma nel tempo stilista amato da artiste del calibro delle gemelle Kessler Ornella Vanoni Carla Fracci Valentina Cortese Carla Bruni Valeria Mazza e molte altre per il cinema veste attrici come Liz Taylor negli anni 60 o Monica Bellucci Eva Erzigova e Carol Halt negli anni 90 negli anni 70 Sarli inizia la sua espansione nel mercato asiatico in particolare quello giapponese oltre che in Canada Stati Uniti e paesi del Golfo Persico diffondendo quindi il Made in Italy nel 1984 nasce la linea Sarli Pret-à-Portè sinonimo di sobrietà eleganza e raffinatezza sono celebri i suoi abiti da sposa bianchi eleganti e leggeri il vero e proprio marchio di fabbrica arriviamo quindi a Gianni Versace è nato a Reggio Calabria nel 1946 Reggio Calabria è il regno dove è cominciata la favola della mia vita così dice lo stilista la sartoria di mia madre la boutique d'alta moda il luogo dove da piccolo cominciai ad apprezzare l'Iliade l'Odissea l'Eneide dove ho cominciato a respirare l'arte della magna Grecia Versace fonda la sua casa di moda nel 1978 e mixa con disinvoltura i linguaggi contemporanei della pop art con elementi della cultura greca da cui il logo della Medusa ispirata dall'iconografia greco-romana alterna motivi rinascimentali e barocchi a ricami preziosi e colori psichedelici il successo della Maison conquista tutto il mondo anche gli Stati Uniti dove lo stile ultramoderno e stravagante viene sempre più apprezzato questo stile caratterizzerà poi tutti gli anni 80 e l'inizio dei 90 con l'espansione territoriale della Grif e le collezioni di grosso successo che costruiranno l'impero tuttora in piedi che va avanti grazie a Donatella Versace e gli anni 70 vedono anche il debutto di Giorgio Armani nato a Piacenza nel 1934 dopo aver lavorato come buyer alla Rinascente crea la sua prima collezione nel 1975 lo stile inconfondibile di Giorgio Armani è definito da classe ed eleganza il suo stile è ispirato ai grandi film in bianco e nero degli anni 30 taglinetti e toni dai colori freddi grigio beige sabbia oppure il famoso blu Armani l'eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare questa è una delle sue frasi più celebri sia per Versace e sia per Giorgio Armani rimando a due approfondimenti in altrettante presentazioni e gli anni 70 vedono anche il grande successo di Valentino Garavani noto come Valentino all'anagrafe Valentino Clemente Ludovico Garavani nasce nel 1932 e fin da piccolo manifesta di possedere un'idea dello stile e dell'eleganza è una misura che emerge nitida nel primo abito che ha creato per sua zia Rosa proprietaria di un negozio di passamanerie a Voghera precisamente in via Turino dove amava trascorrere i pomeriggi giocando con le pezze l'amore per il rosso lo comprese quando durante un periodo di apprendistato da Jean de Se a Parigi andò all'opera di Barcellona qui rimase folgorato dai sipari e dai costumi di scena tutti rossi capì in quel momento che dopo il bianco e il nero non esiste colore più bello così ha detto più volte il grande stilista a 17 anni Valentino lascia Voghera per imparare la moda a Parigi la velocità nello schizzare figurini gli vale subito l'assunzione da De Sesse dove lavora fino al 1955 poi passa da Guilaroche dove l'apprendistato dura fino al 1957 dopodiché torna in Italia per aprire nel 1959 con l'aiuto del padre un atelier a Roma in via Condotti è qui che disegna all'ombra dei grandi atelier il debutto avviene proprio a Roma in sordina e un fiasco neppure un abito venduto in quegli anni conosce Giancarlo Giammetti lo studente di architettura che sarà il suo manager il suo amministratore il suo uomo di comunicazione e nel 1962 a Firenze Valentino sfila per ultimo a Palazzo Pitti la sala lo travolge con un boato di applausi la madre disse li senti vogliono te perché ce l'hai fatta hai vinto dopo nemmeno un'ora avevano comprato l'intera collezione ed era sommerso di ordinazioni da allora i suoi successi si susseguono puntuali stagione dopo stagione gli americani impassiscono per questo italiano diventato re della moda in poco tempo e nel 1968 dopo una bagliante sfilata tuta bianca punteggiata di mantelli abiti appena drapeggiati Valentino vede la sua definitiva acclamazione nell'Olimpo della moda internazionale fu proprio questa sfilata infatti a fare la sua fortuna perché da allora i suoi abiti furono ricercati e richiesti in tutto il mondo la creatività è difficile da spiegare è come una forza interna un entusiasmo che non si spegne mai e che mi trasmette la forza di lavorare sempre in modo nuovo guardando le cose le persone per strada la fantasia cammina e l'idea prende corpo attraverso la matita questa è un'affermazione del grande Valentino e il suo estro vulcanico al servizio della donna e dell'eleganza raffinata lascia un segno indelebile nel jet set internazionale e hollywoodiano Farah Perlafi fugge dal suo impero indossando un Valentino Liz Taylor incontra Richard Burton indossando un Valentino Jackie Kennedy sposa Onassis in un suo abito di pizzo avorio che per anni le donne copieranno è infinita la lista delle celebrità che Valentino veste da Sophia Loren a Nancy Reagan da Brooke Shields a Sharon Stone poche hanno resistito al fascino dei suoi abiti sintesi di lusso e grazia modulati con modernità innumerevoli sono le sue ideazioni ha reinventato i fiocchi trasformandoli nel simbolo della femminilità uno dei suoi primi abiti impreziosito da questo dettaglio strappò un leggendario applauso di dieci minuti padrone assoluto del mestiere della tecnica ha trasformato questa virtù artigianale in una bussola per mantenere sempre la rotta della continuità e Valentino lavora ininterrottamente fino al 2007 dal 2008 in poi assumono la direzione creativa Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri che resterà nella Maison fino al 2016 prima di passare alla direzione artistica di Dior la presentazione termina adesso con la visione di alcune clip la prima riguarda un tour virtuale nel museo di Valentino Garavani la seconda invece la sfilata di Palazzo Pitti del 1972 1982 You are in a beautiful room permeated by brilliant Roman sunlight with gossamer clouds just visible through a white lattice ceiling ねぇ the most divine fashions on earth dot this internal landscape and as you glide invisible unseen through this chamber e la successione di saloni che seguono, tu trovi più visioni di ricordazione miracolosa. Explore i works di Valentino Garavani, vestiti in sette gallerioni, un museo virtuale, che si tratta di più di 10,000 metri. Non solo le vestiti, ma anche le storie di dettagli. The women who wore them Runway debuts The women who wore them Explore couture details Journey through five decades of style Journey through five decades of style Re-live spectacular events Travel the galleries of Both the artist And the subject Experience the world of a master Oh la la This dress This dress is something very very important in my life I make it for Jackie Kennedy And his other half I was all the time with him I was all the time in this fashion house That already existed Valentino was a For sure A vast media library of over 5,000 images Hundreds of dresses And 180 fashion show videos This is the Valentino Garavani Virtual Museum And the And the Father And the Tra le proposte viste a Firenze, qui siamo a Palazzo Strozzi dove le case fanno le loro vendite, vi è il ritorno della Midi, questi sono modelli di Nelson, delle Midi che speravamo decisamente superate e che pare invece voglia affermarsi. Piena di colori dell'estate, rosa fragola, turchese e azzurro, la collezione di Sarli stampata a gabbiani che volano sulle onde in una girandola di abiti pensati soprattutto per il mare. Lancetta ha riproposto i temi della sua collezione d'alta moda di luglio, completi albicocca, giallo, celeste, giacche con pantaloni o gonne e gli chemisier d'obbligo con la giacca di lana. Per la sera dei bellissimi gilet ricamati sugli chemisier lunghi di chiffon. Anche Heinz Riva ovviamente ha ripetuto i motivi della sua alta moda, soprattutto nella lavorazione delle spalle e delle maniche e nel plisset soleil, questo è un abito di plisset bleu con la seconda gonna rossa e sempre in plisset con lo stesso modello e il bellissimo abito lungo arancione, caratteristiche le pettinature di famsistina bombate e arrotondate. Antonelli che dall'anno scorso presenta solo il pret-à-porter e non più l'alta moda ha fatto una collezione originale, riuscendo a rendere giovani e moderni i temi più classici, il tailleur bianco e bleu, gli chemisier, l'arré d'un gota a poire e gli abiti lunghi a righe che sono un motivo ricorrente negli stampati per il prossimo anno. A Roma anche Valentino ha presentato la sua collezione di pret-à-porter, indossatrici con berrettini di cotone all'uncinetto e occhiali, tessuti con allegri stampati di frutta, pere, ciliegie, arance, chicchi di caffè, poi giacche a camicia da uomo con righe dappertutto alternate ai disegni, collane d'avorio e tartaruga, molti pantaloni, pochi abiti e sempre oscinisi, poi il quadretto gigante alternato alle righe in bianco e marrone o bianco e azzurro carico e ancora le righe bayadera, turchese, verde, viola, arancio, giallo, amice negli abiti, nelle giacche, nei pullover, negli abiti lunghi, un insieme di stupendi colori in una linea sobria e pratica. Grazie